Ho dato a questa conversazione, a questa breve conversazione, il titolo I diritti di libertà come progetti di vita e conquiste della volontà. Ora spiegherò il titolo nel corso del colloquio che stiamo intraprendendo. La questione dei diritti di libertà e i molteplici problemi ad esso attinenti costituiscono un tema assordante, un tema che a partire dall'antichità non ha cessato di diventare via via più centrale e bruciante per le sue implicazioni sull'assetto della società, sui modi di intenderlo e sui rapporti tra i singoli individui, tra gli individui e i gruppi e tra un gruppo e l'altro. Ma partiamo dal chiederci che cosa significa rivendicare un diritto. Rivendicare un diritto significa chiedere un cambiamento importante, cruciale, che piace agli uni e dispiace agli altri, che dunque evoca necessariamente un conflitto. si consideri poi che, in relazione all'evolversi dei tempi, della mentalità, dei costumi e degli interessi, la sfera dei diritti si è costantemente allargata in senso tanto quantitativo quanto qualitativo. non solo. Il modo di concepire i diritti di libertà è cambiato e continua a cambiare senza posa, in un pressoché incessante contrasto nei modi di intenderli, di chiederne l'affermazione e di dare loro una sanzione giuridica, da tutto ciò la necessità di intenderli come specchio essenziale delle nostre idee, dei nostri valori e dei nostri progetti di vita. Insisto nel sottolineare che i diritti di libertà non sono affatto universalmente condivisi, che i diritti condivisi dagli uni non lo sono dagli altri, che i diritti esaltati dagli uni sono persino disprezzati dagli altri, che i diritti un tempo negati vengono successivamente riconosciuti, che i diritti dati in un certo momento per acquisiti in un altro vengono revocati, misconosciuti, repressi. Così è stato in passato e continua ad essere nel presente. Il che ci rimanda ad un'altra questione. Ma a quale fondamento stabile i diritti possono fare appello? Sotto lo scudo di quale autorità possono collocarsi per pretendere di essere riconosciuti e di riceverne protezione? Qual è il meccanismo che presiede la marcia della loro affermazione ed è in grado, una volta che tali diritti sono entrati nelle tavole delle leggi, di salvaguardarli? Per secoli chi ha avanzato dei diritti a favore della libertà, oppure l'opposto delle ragioni per negarli, lo ha fatto in nome di autorità assolute, che in successione o in combinazione sono stati Dio, la giustizia, la morale, la volontà del sovrano, delle religioni, del popolo, la natura. E' attribuita a questa autorità il monopolio nel modo di intendere nell'opera dell'identificazione e del riconoscimento dei diritti. Alla teologia, alla filosofia, alle ideologie politiche, è stato attribuito il compito di fornire dei martelli, per così dire, avvolti in varie forme di sacralità e legittimità, da lanciare contro i sostenitori delle opposte correnti, vale a dire quelle di coloro che volevano tenere diritti di libertà per sé, ma non per gli altri, quella dei favorevoli invece alla loro estensione a tutti, quella invece dei tucur contrari ad essi. Prendiamo ad esempio un tipico e importante diritto di libertà, il diritto di voto. illustri conservatori come Benjamin Constant sostenevano che tale diritto spettasse unicamente ai proprietari, ma non alle masse proletarie incolte e pronte a dare l'assalto alla proprietà, al diritto di proprietà. Qui si vede bene come un diritto così inteso fosse per un verso un atto di libertà, peraltro un privilegio riservato a pochi. Furono i democratici, come ben sappiamo, abbattersi per l'universalità del voto. Erano poi stati i regimi assolutisti a negare decisamente tale diritto e sarebbero stati poi i regimi totalitari a manipolarlo, pur riconoscendolo formalmente, ma a manipolarlo così da annullarle del tutto il valore. Noi oggi concepiamo i diritti di libertà come universali. se non che i diritti che hanno progressivamente allargato la sfera della libertà degli uomini sono stati e non avrebbe potuto essere altrimenti frutto dell'evoluzione storica, figli del mutamento intellettuale, morale, politico, sociale delle varie forme di aggregazione umana. I diritti di libertà si sono affermati sempre e soltanto dove e quando coloro che se ne sono fatti e se ne fanno portatori sono diventati e diventano una forza, una forza animata all'origine da gruppi di minoranza, i quali però si rendono capaci di aggregare nuove energie, accrescere intorno a sé il consenso, promuovere lotte capaci di abbattere le barriere poste da quanti decisi a negarli e costruire presupposti atti a farli riconoscere. I diritti non sono mai stati regalati, sono stati sempre e soltanto conquistati. Partiamo da un celebre documento che si perde quasi nella notte dei tempi, dalla Magna Carta del 1215, per assumere questo lontano ma significativo punto acquo, con cui i nobili inglesi costrinsero il sovrano a riconoscere alcuni importanti diritti di libertà, ma per sé soli. Proseguiamo fino a menzionare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, passando per la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 in Francia, il Bill of Rights che nel 1689 segnò l'avvento della monarchia liberale in Inghilterra e il Bill of Rights americano del 1791, ma potremmo continuare. La marcia dei diritti ha incontrovertibilmente dimostrato che nulla appunto è mai stato ottenuto senza aspre battaglie, che i tempi e i contenuti di tale marcia sono da porsi, come dicevo, in rapporto con i mutamenti della coscienza collettiva e le caratteristiche assunte dai gruppi sociali nel corso del loro sviluppo, che ogni concezione dei diritti si è scontrata con altre concezioni. Qui emerge, questo è un punto che vorrei sottolineare, la loro natura soggettiva. Non vi sono libri sacri che li dettino con oggettività dall'alto. Ma se la loro affermazione, se l'affermazione dei diritti di libertà è riconducibile al vigore della soggettività, allora, e questo è un punto anch'esso da sottolineare per la sua importanza. I diritti sono essenzialmente progetti di vita, espressioni della volontà, di un imperativo categorico che dice, fino a ieri abbiamo vissuto in un certo modo, da oggi in poi non vogliamo più vivere così. Se altri desiderano vivere in altro modo, sia ciascuno libero di farlo, senza prevaricazioni reciproche. Questo richiama in tutto il suo significato, il fatto che il rispetto dei diritti nella loro varietà esige non già la semplice tolleranza, la quale presuppone pur sempre uno stato di superiorità di una parte sull'altra, ma il riconoscimento delle differenti identità, la libertà di ciascuno di perseguire i propri scopi, a condizione che non si violi la libertà degli altri, in ciò, e voglio sottolineare quanto segue, vi è il legame inscindibile dei diritti di libertà con una visione pluralistica e laica della vita. La storia dei diritti è la storia della successione delle varie età che ne hanno segnato il cammino, con un crescendo dal XVIII secolo in avanti, il che ha fatto sì che abbiamo assistito ad un crescendo tutt'altro che lineare, con momenti alti e momenti bassi, quando non di regressioni che giungono fino al totale oscuramento. La storia sta a dimostrarlo, tutta la storia sta a dimostrarlo e tragiche dimostrazioni si sono avute nel ventesimo secolo, il secolo delle grandi tirannidi. Vengo ora a tre belle citazioni. Tratta l'una da una lettera del 16 aprile nel 1963, inviata da Martin Luther King, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Quando egli si trovava in prigione a Birmingham, l'altra da uno dei saggi di Norberto Bobbio, raccolti nel 1990 nel volumetto L'età dei diritti. L'ultima tratta dal memorabile saggio del 1859 di John Stuart Mill, intitolato della libertà. Nella prima è posta al centro l'idea che il riconoscimento dei diritti di libertà dei neri, atteso da centinaia di anni, non poteva che essere il frutto di una volontà accompagnata dalla lotta. Scriveva King, sappiamo per dolorosa esperienza che l'oppressore non concede mai la libertà per decisione spontanea. Sono gli oppressi che devono esigere di ottenerla. Da anni sento dire la parola aspettate, che suona all'orecchio di ogni negro, questo è il termine usato da King riprendendolo dal linguaggio dei bianchi, che suona all'orecchio di ogni negro con stridente familiarità. Questo aspettate significa quasi sempre mai. Dal canto suo, Bobbio batteva in breccia la teoria metafisica del fondamento assoluto dei diritti, affermando. Il fondamento assoluto non è soltanto un'illusione, qualche volta è anche un pretesto per difendere posizioni conservatrici. Il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico, ma politico. Venendo a Mil, questi, dopo aver sottolineato con vigore che ogni libertà collettiva ha la sua radice prima e permanente in quella dei singoli individui, affermò che tratto tipico e fondamentale dei paesi riascesi ad un elevato grado di civiltà è, cito, la libertà di coscienza nel senso più ampio, cioè come libertà di pensare e sentire, libertà assoluta di opinione e sentimento su qualsiasi tema, pratico o speculativo, scientifico, morale o teologico. Fine della citazione. Diritti di libertà, diritto alla partecipazione politica, alla elaborazione e comunicazione del pensiero, al giusto processo, alla sicurezza, alla mobilità territoriale, eccetera, eccetera. Ma, e qui dobbiamo venire ad un lato oscuro che ha caratterizzato la storia, per secoli la conquista dei diritti di libertà è stata conquista per i soli uomini, che hanno considerato non solo un loro diritto, ma persino un dovere il negarli alle donne. Toccò alle donne americane, bravi, coraggiose, ardite, naturalmente bianche, alzare la bandiera per il riconoscimento dei loro diritti. Tra queste, un posto d'onore spette in particolare a Sarah Grimke, la quale nel 1838 pubblicò la sua lettera sull'eguaglianza dei sessi e sulla condizione delle donne, lettera divenuta famosa. Condizione delle donne che negava alle donne naturalmente sposate di avanzare ogni diritto legale sulle sue stesse proprietà, di fare testamento senza il consenso del marito, di avere la custodia dei figli, di votare, di assumere cariche pubbliche. Si trattava dell'analoga condizione esistente peraltro in Inghilterra e in Europa, messa in luce da mille nel saggio sulla servitù delle donne. E furono sempre le coraggiose donne americane a sfidare gli uomini, convocando nel 1848 una convenzione femminile a Seneca Falls, nella quale approvarono una solenne dichiarazione, in cui si proclamava che, cito, tutti gli uomini e le donne sono creati uguali. E si rivendicava il diritto di voto, l'eguaglianza nell'istruzione, nel matrimonio, nella proprietà e negli impieghi. Fu l'inizio, fu il primo grande capitolo delle lotte proseguite successivamente dalle suffragette, in particolare americane e inglesi. Queste vennero guardate dagli uomini con ostilità, con disprezzo, con derisione e vennero anche imprigionate. I diritti di libertà per le donne, come ben sappiamo, non sono ancora pienamente acquisiti, nonostante tutti i passi avanti compiuti, neppure nei paesi liberali e democratici. E non si dica poi di quel che continua ad accadere nei tanti paesi nei quali le donne restano in condizione di umiliante inferiorità. Molte altre cose si dovrebbero e si potrebbero aggiungere su questo grande tema, ma io qui mi fermo, sperando di avere interessato i miei ascoltatori, che ringrazio nel modo più sentito per la loro attenzione e che saluto. Grazie. 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 Grazie.